lo sparatutto ultra realistico bodygum realizzato con il motore a real engine 5 è un gioco veramente pazzesco fantastico e ultra realistico che servono almeno componenti costosi per farlo girare sopra i 60 fps in 4k come puoi vedere io sto laggando anche con una grafica tutto epico l'illuminazione globale proprio epico tutto epico tutto alto sui 22-25 fps in full hd ovviamente in questo video ti spiego come vedere se puoi sopportare così questo gioco quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina del sito System Rex come puoi vedere hanno già aggiunto il gioco bodygum che è ancora in fase di sviluppo comunque un bel lavoro hanno realizzato questi due ragazzi andiamo così a inserire il nostro processore io vado a mettere il mio ryzen 5 3600 ho già realizzato dei benchmark con questi componenti qua e più o meno fino a 40-45 fps siamo riusciti ad arrivare pure oltre i 50 fps con la 1660 super ed eccola qua ma questa è la ti 660 geforce eccola qua ram 32 sistema operativo windows 11 64 bit faccio compare ed eccoli qua io il gioco lo supporto però gli fps sono questi ok ed eccoli qua un altro sito che puoi utilizzare can you run it che è veramente un ottimo sito però ancora non c'è bodygum ma prima o poi uscirà quindi ti spiego come usare il sito can you run it ovviamente vai a cliccare così un gioco qualsiasi prendo così gta 5 ed eccolo qua che supporto così il gioco vado a prendere a dead recolo qua red dead redemption tu scarichi così il software il software ti rileva i tuoi componenti li mette in base al gioco e ti dice se puoi sopportare il gioco come vuoi vedere minimo e raccomandato quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video puoi anche guardare gli altri benchmark che ho realizzato con la 1660 super il processore asem 5 3600 e vedere tu stesso quanti fps riesco a fare ovviamente i fps sono veramente bassissimi quindi bisogna per forza fare un upgrade quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao